Diversi gli argomenti affrontati dai rappresentanti del CAI di Erice nel corso degli incontri con le scuole. Dopo l'Istituto Viaggio Amico di Trapani, gli incontri si sono spostati all'Istituto Superiore Ignazio e Vincenzo Florio di Erice, anche qui per parlare di ambiente, cambiamenti climatici e della crisi energetica ed idrica. Al centro del focus anche l'aumento della produzione di anidride carbonica e rifiuti. In particolare abbiamo esposto quelle che sono le criticità globali che riguardano e generano il problema dei mutamenti climatici dovuto ai fattori inquinanti, soprattutto alla produzione dell'impronta carbonica degli ultimi 60 anni che oggettivamente dall'epoca dell'industrializzazione ad oggi ha prodotto tanta di quella CO2 e tanti di quei gas serra che hanno sconvolto la composizione dell'atmosfera. producendo appunto i mutamenti climatici. Analizzati nel corso delle lezioni anche gli aspetti legati all'impatto antropico ed alla fine è stato presentato un vademecum con consigli utili per risparmiare acqua ed energia. Sì, abbiamo proprio analizzato insieme agli studenti il fenomeno dell'impatto antropico sul pianeta negli ultimi 100 anni. In particolare abbiamo potuto rilevare che la popolazione mondiale è passata dal 1860 al 2020 e è incrementata di ben 4 miliardi di persone negli ultimi 60 anni. è chiaro che in uno spazio finito del pianeta l'incremento dell'impatto antropico che ha roddoppiato la popolazione sul pianeta crea dei mutamenti climatici proprio dovuti alla produzione dei rifiuti e all'impatto carbonico. È stato fatto un paragone molto valido. I singoli individui apparentemente possono fare poco, sono state rappresentate come le gocce dell'acqua nel mare ma le gocce nell'acqua del mare quando si mettono insieme e formano un'onda hanno una capacità, una forza, un impatto capace di affrontare e superare qualunque ostacolo. Ecco, noi singoli individui possiamo cambiando atteggiamento, cambiando comportamenti, cambiando stile di vita e assumendo tutta una serie di comportamenti adeguati per quanto riguarda il risparmio idrico ed energetico perché il problema della produzione di energia è il maggior produttore, come dire, dalle fonti fossili dei mutamenti climatici. Allora, risparmiare l'energia e risparmiare l'acqua sicuramente può essere un comportamento utile a mitigare il problema sul pianeta. Gli studenti dell'Istituto Superiore Ignazio e Vincenzo Florio, scuola impegnata da anni sul fronte della tutela ambientale, hanno seguito con forte interesse questo momento di formazione curato dal CAI. La nostra scuola da circa sei anni si occupa della tutela dell'ambiente, del rispetto dell'ambiente. Abbiamo portato avanti tante iniziative su questo tema e abbiamo aderito con tante aspettative anche a questo progetto del CAI. Quindi la scuola si propone sempre di essere all'avanguardia nella sensibilizzazione su questi temi così importanti che oggi rivestono un'importanza mondiale, direi. E quindi i ragazzi devono essere a conoscenza, non solo, devono prendere coscienza di questi problemi nell'ambiente. L'idea del progetto è sicuramente un'idea positiva. Quindi i ragazzi stanno cominciando a cogliere gli aspetti essenziali di questo progetto, quindi risparmio energetico, risparmio idrico sotto l'occhio di tutti.